Dal prato del Cosimo Puttili all'asfalto delle strade del centro, ripresa degli allenamenti post-Perugia inedita per i tesserati del Barletta, lo ha deciso il presidente dimissionario del sodalizio bianco-rosso Roberto Tatò. Non c'entra niente la sconfitta di domenica scorsa contro gli Umbri, ma il solito ed interminabile braccio di ferro con l'amministrazione comunale sulla questione stadio. In virtù di quanto emerge dal comunicato diffuso ieri sera dalla società sportiva Barletta Calcio, il Puttili sarà off-limits per i calciatori bianco-rossi. Oggi e chissà, forse anche nei prossimi giorni, i lavori si svolgeranno per le vie del centro di Barletta. Il motivo? Presto detto, Roberto Tatò lamenta il fatto di non aver ricevuto riscontri fattivi dopo gli incontri tenuti nelle scorse settimane con esponenti di Palazzo di Città finalizzati a definire e sottoscrivere la Convenzione per l'affidamento in autogestione dello stadio per l'attuale stagione sportiva. Ecco, di conseguenza, la scelta di trasferirsi in città per svolgere le sedute d'allenamento. Non è mancata a tal proposito la replica del sindaco di Barletta. Pasquale Cascella ha definito il cambio di location degli allenamenti una buona iniziativa dal punto di vista promozionale, ma ha anche assicurato che la sottoscrizione della Convenzione per l'affidamento in autogestione dello stadio è ormai imminente. E comunque, ha aggiunto il sindaco, il Barletta, se decidesse di farlo, potrebbe continuare ad allenarsi regolarmente al Puttilli.